Buongiorno da Sicilia24, ben ritrovati, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca, nuova operazione antimafia a Palermo e nuovo colpo al mandamento di Porta Nuova. Tutti i dettagli del nostro servizio. La direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Palermo ha delegato ai carabinieri l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale del Capoluogo nei confronti di 12 indagati, 4 in carcere e 8 agli arresti domiciliari ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, coltivazione e spaccio di droga, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. L'operazione, denominata Vento 2, rappresenta l'immediata prosecuzione dell'operazione Vento conclusa lo scorso 6 luglio attraverso l'esecuzione di 18 fermi di indiziato di delitto emessi a carico di altrettanti soggetti gravemente indiziati di essere cati e sodali del mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova. L'operazione Vento aveva subito un'accelerazione nella fase esecutiva in quanto, a seguito dell'omicidio di Giuseppe Incontrera, commesso lo scorso 30 giugno a Palermo e per cui è indagato Salvatore Fernandez, erano emersi chiari segnali di una possibile escalation di violenze. Anche per il presente segmento di indagine, il nucleo investigativo di Palermo ha raccolto ulteriori e chiari segnali di recrudescenza violenta connessa con alcune tensioni in atto all'interno del mandamento di Porta Nuova. Tali evenienze hanno consentito al GIP di emettere le misure cautelari odierne che hanno evitato tra l'altro la scarcerazione dell'indagato Filippo Burgio, detenuto per altra causa e per associazione mafiosa, il quale avrebbe dovuto riacquisire la libertà proprio oggi e che, come emesso dalle indagini, aveva manifestato intenti di punizione per i soggetti da lui ritenuti corresponsabili dell'omicidio del figlio Emanuele, avvenuto il 31 maggio 2021 a Palermo nel popolare quartiere della Vuciria. In generale le indagini del nucleo investigativo di Palermo hanno integrato quelle già emerse nella prima fase dell'operazione e hanno permesso di ipotizzare, a carico degli indagati, gravi indizi in ordine ai delitti di partecipazione all'associazione mafiosa operante nel mandamento di Palermo Porta Nuova, violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose, coltivazione e spaccio di stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di droga gestita in tutta la sua filiera dai vertici della struttura criminale per alimentare le casse mafiose. L'associazione avrebbe assunto la gestione diretta di sei piazze di spaccio, localizzate nei centralissimi quartieri del Capo, della Vuciria, di Ballarò e della Zisa, tutte capeggiate da elementi gravemente indiziati di appartenere a Cosa Nostra. Ancora a sangue sulle strade siciliane un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Corleone. Secondo le prime indagini, pur non avendo la patente, il giovane sarebbe arrestato alla guida di una panda finita poi in una scarpata. L'auto si è ribaltata e per il 17enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere e i sanitari che ne hanno constatato il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone. E un altro incidente mortale invece avvenuto ad Acireale. Un 42enne che percorreva via San Girolamo per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua moto finendo fuoristrada. Il fratello che viaggiava con lui sarebbe rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ancora cronaca, ci spostiamo adesso a Siracusa per la precisione a Ortigia dove i carabinieri della locale stazione nel pomeriggio di ieri hanno notificato a due attività commerciali dell'isola, due chioschi, la sospensione dell'attività. I carabinieri di Siracusa in diverse occasioni, tra cui la tristemente nota rissa di Pasqua, sono intervenuti per sedare turbative di ordine pubblico in prossimità delle citate attività commerciali. Più volte è stato accertato che i due chioschi erano anche ritrovo abituale di soggetti con precedenti di polizia. La chiusura e la relativa sospensione dell'attività decorrerà dal pomeriggio di oggi e avrà la durata di 10 giorni. Emergenza incendi ancora a Roghi in Sicilia, stavolta nella Messinese, vi mostriamo anche le immagini vigili del fuoco di Messina, sono intervenuti ieri per un incendio di vegetazione, di un vasto incendio di vegetazione che ha interessato la zona della cava panoramica dello stretto. Dopo un pomeriggio di intenso lavoro e grazie anche all'intervento della componente aerea del corpo, le squadre sono riuscite a fermare l'avanzata delle fiamme. Come potete vedere dalle immagini, tanto lavoro per i vigili del fuoco, stavolta nella Messinese, ma Roghi sono avvenuti anche in altre zone della Sicilia e ogni giorno, lo ripetiamo e non ci stanchiamo di ripeterlo, anzi vorremmo ovviamente non ripeterlo, si tratta di un vero e proprio bollettino di guerra con incendi che divampano in diverse aree boschive che spesso mettono a repentaglio anche l'incolumità delle abitazioni e quindi dei cittadini. Cambiamo ancora argomento, adesso ci spostiamo a Mazzara del Vallo dove sono state arrestate due persone per rapina. Vediamo il servizio. Personale della sezione anticrimine del commissariato di Mazzara del Vallo ha tratto in arresto due pregiudicati mazzaresi in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Marsala con cui è stata disposta al loro carico la custodia in carcere e l'obbligo di dimora unitamente all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I due infatti sono gravemente indiziati per il reato di rapina aggravata avvenuta in pieno centro a Mazzara del Vallo lo scorso 5 luglio ai danni di una donna mazzarese. Questi i fatti. Un soggetto già noto alle forze dell'ordine con l'aiuto di un complice che fungeva da palo si è introdotto all'interno dell'autovettura a bordo della quale era appena salita la vittima intimandole con una lama in corrispondenza del polso all'altezza delle vene di consegnare le chiavi del mezzo. Poco dopo l'uomo si è allontanato con il veicolo insieme al complice che lo attendeva poco distante. Le indagini di polizia avviate dalla sezione anticrimine del commissariato hanno permesso di identificare e arrestare gli autori del gravissimo fatto delittuoso. E potrebbe non essere stata un'intossicazione alimentare a uccidere il piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di sette anni morto lo scorso 2 luglio a Sharm El Sheikh mentre si trovava in vacanza con i genitori Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile. Ad alimentare i dubbi dei magistrati palermitani che stanno indagando su questa triste vicenda sono il fatto che nessuno nel resort in cui la famiglia alloggiava e in cui dice di aver mangiato si è sentito male ma anche la diagnosi fatta al padre del bambino dai medici palermitani. Mirabile che pure ha avuto sintomi gravi ed è finito in rianimazione avrebbe avuto infatti un'infezione urinaria e non problemi intestinali. La procura di Palermo che indaga sul decesso del bambino vuole ricostruire gli spostamenti della coppia per capire se a uccidere il piccolo sia stata una intossicazione da cibo come sostengono i medici egiziani oppure una intossicazione da contatto o ambientale. Quindi la procura insomma vuole vederci chiaro su questa vicenda visto che le dinamiche del decesso del bambino del piccolo Andrea Mirabile sono ancora tutt'altro che definite e definitive quindi vedremo se ci saranno altre evoluzioni su questa vicenda assolutamente triste e drammatica. Ed ora il Covid andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute quindi in questo caso il bollettino di ieri. 6.905 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia a fronte di 32.125 tamponi processati nell'isola. Tasso di positività al 21,5% e Sicilia al settimo posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 144.858, i guariti invece 5.062. Purtroppo si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 11.380. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.076, 25 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva ci sono al momento 55 persone, 4 in più rispetto al giorno prima. Infine i dati a livello provinciale Palermo, la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 1.607, poi Catania con 1.472, Messina con 1.326 nuovi casi Covid, Agrigento con 824 e poi le altre province con dati più bassi. Quindi lo ribadiamo, questo è l'ultimo bollettino diramato ieri sera dal Ministero della Salute e poi in serata quando usciranno i dati di oggi, i dati odierni, chiaramente ve li daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Ed ora invece ci occupiamo dell'emergenza cinghiali. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato queste immagini che vi riproponiamo, vedete, di cinghiali in giro per Palermo, immagini che spesso siamo abituati a vedere a Roma, in questo caso invece siamo nel capoluogo siciliano, vedete, con questi cinghiali che girano attorno ai rifiuti. Ebbene, sull'emergenza cinghiali è intervenuto l'assessore regionale all'agricoltura Tony Scilla. Serve un intervento urgente da parte del Governo nazionale, ha dichiarato. C'è la necessità di estendere il periodo di caccia al cinghiale e di effettuare piani di controllo e selezione anche nelle aree in cui oggi non è possibile intervenire. Non si può più temporeggiare su un problema che mette a serio rischio l'incolumità dei cittadini. Adesso, prosegue Scilla, si attende il decreto interministeriale, il cui testo è già stato presentato dalle regioni alcuni mesi fa, contenente provvedimenti per osteggiare la presenza di cinghiali e porre fine ai seri rischi legati alla diffusione della peste suina, ma anche e soprattutto per evitare ingenti danni alle culture agricole. Ed ora invece una notizia dalla Germania, ma che ovviamente riguarda da vicino la Sicilia. Il ristoratore di Francoforte, finito al centro di critiche polemiche due anni fa per aver chiamato la sua pizzeria Falcone Borsellino, non potrà più utilizzare il nome di Giovanni Falcone per il locale. Pena, un'ammenda fino a 250 mila euro e una condanna fino a sei mesi di reclusione. Sui muri della pizzeria, sui quali erano stati riprodotti fori di proiettili, l'uomo aveva anche appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i due giudici assassinati 30 anni fa e accanto aveva messo un'immagine di Don Vito Corleone del celebre film Il Padrino. Una scelta che ovviamente non era piaciuta a Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia. I giudici di appello di Francoforte hanno poi ribaltato la sentenza di primo grado e hanno accolto il ricorso presentato dalla professoressa Falcone. Ed ora parliamo di calcio, prosegue il ritiro del Palermo in vista della nuova stagione. Ieri in conferenza stampa ha parlato l'esterno Nicola Valente. Sentiamo le sue dichiarazioni. Sembra di non essere mai andati a casa, nel senso ritrovarsi con questo gruppo fantastico che ha fatto quel miracolo che abbiamo fatto un mese fa. È bellissimo. Sembra di ritornare in famiglia e infatti si respira un'aria bellissima. Io sono molto contento di essere qui, di essere rimasto. Io ho sempre detto che la mia priorità era Palermo, anche più anni, chiaramente, perché comunque io voglio continuare la mia carriera qui, a Palermo, perché già due anni fa quando sono venuto qui io mi sono innamorato subito di questi colori e era difficile dire di no quest'estate, anche a solo un anno. La società probabilmente ha fatto le sue valutazioni e starà a me dimostrare come ho sempre fatto negli anni scorsi. L'anno scorso ero in scadenza e non ho avuto tanti problemi per mettermi in mostra e farò lo stesso anche quest'anno. Per me non cambia niente. Un anno, due o tre non cambia nulla. Io quest'anno per me è un punto di inizio. Io mi ci sento un giocatore di Serie B. Io mi devo sentire anche un giocatore di Serie A, perché se no non avrei gli stimoli per lavorare tutti i giorni. Mi sento un giocatore di Serie B, però lo voglio dimostrare alla gente che io sono un giocatore di Serie B. Perché comunque quando sono venuto qua io arrivavo da un campionato molto importante a Carrara e ho dovuto correre un anno o due per far credere alla gente che ero di categoria per la Serie C ed ero un giocatore importante. Io dimostrerò qui, se ne avevo la possibilità, se meriterò di giocare, sono sicuro che potrò dimostrare alla gente che posso ambire a questa categoria. E a proposito del Palermo, ieri è stato definito il calendario di Serie B, il campionato della squadra di Baldini comincerà dal Barbera contro il Perugia. E con questa notizia ci fermiamo, ma ci ritroviamo più tardi, come sempre, su Sicilia24. Grazie.